Il giorno dopo la vittoria schiacciante del centrodestra alle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, è tempo di fare i conti con i dati definitivi. L'ex presidente della Croce Rossa, Francesco Rocca, si afferma nel Lazio con il 53,88% delle preferenze, 22 i seggi che in consiglio regionale spettano alla maggioranza con Fratelli d'Italia primo partito. In Lombardia il governatore uscente Attilio Fontana si conferma con il 54,67%. Anche al Pirellone inizia l'era di Fratelli d'Italia. Per le forze politiche è anche tempo di fare un'analisi dei risultati, ma ogni commento sulle singole prestazioni si scontra contro il numero bassissimo di persone che sono andate alle urne. A preoccupare è quella che è ormai una tendenza che si manifesta ad ogni tornata elettorale con sempre meno persone che si sentono coinvolte. Con queste elezioni però si è raggiunto il punto più basso di interesse. La priorità è consegnare i tanki Leopard e gli altri carri armati che sono stati promessi, nonché i veicoli blindati di fanteria, mentre i jet non sono la questione più urgente ora. Lo ha detto il segretario generale della NATO Stoltenberg aprendo l'incontro a Bruxelles del gruppo di contatto per l'Ucraina a guida Stati Uniti. Secondo il segretario di Stato per la difesa Lloyd Austin, nonostante alcuni arretramenti, l'Ucraina ha mostrato che prevarrà in questa guerra e che questi arretramenti non saranno altro che temporanei. E sosterremo Kiev per tutto il tempo necessario. Intanto in tutta l'Ucraina è scattata una nuova allerta aerea. Attacchi delle forze russe sono stati segnalati in otto regioni nelle ultime 24 ore. La Moldavia dal canto suo ha chiudo temporaneamente lo spazio aereo per poi riaprirlo dopo poco tempo. Secondo alcuni media nazionali la causa sarebbe un drone o un missile russo. Ad una settimana dal terremoto che ha messo in ginocchio Siria e Turchia il bilancio delle vittime continua ad aumentare. I morti accertati sono oltre 41.000 ma non esiste una stima ufficiale su quante persone possano essere ancora sepolte sotto le macerie. I media turchi parlano però di oltre 70.000 persone tra adulti e bambini ed oltre un milione di sfollati. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il terremoto che ha colpito Turchia e Siria il peggior disastro naturale degli ultimi cento anni nella regione europea. Alcune città sono state rase al suolo e le immagini satellitari mostrano le conseguenze del devastante sisma. Una situazione aggravata da molte parti dalla presenza di palazzi che non rispettavano le regole antisismiche. Le auto a benzina e diesel non potranno più essere immatricolate in Europa a partire dal 2035. Il Parlamento europeo ha infatti dato il via libera definitivo all'accordo raggiunto a novembre sullo stop ai veicoli a motore termico più inquinanti. L'ok definitivo della plenaria al provvedimento che fa parte del pacchetto europeo sul clima Fit for 55 è arrivato con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti. Tre condanne e una provvisionale da oltre mezzo milione di euro in favore delle parti civili per il crollo parziale del palazzo sul Lungotevere Flaminio a Roma avvenuto il 22 gennaio del 2016. Crollo causato dalla ristrutturazione all'interno dell'appartamento posto al settimo piano, franato sul sesto e il quinto senza fortunatamente provocare vittime. Il giudice monocratico della capitale ha inflitto due anni a Massimo Canepa, legale rappresentante della società che provvedeva alla ristrutturazione, e un anno al progettista Roberto Mattei e al titolare della ditta esecutrice dei lavori Pasquale Famà, colpevoli della mala ristrutturazione. Nei confronti degli imputati per i quali sono state riconosciute le attenuanti generiche, l'accusa era di crollo colposo. Il proprietario dell'appartamento invece era già stato assolto fino in Cassazione, da parte sua c'era stata buona fede nell'affidare i lavori all'impresa idile. Presentata con una cerimonia nel circuito di Fiorano, la nuova Ferrari SF23 che parteciperà al prossimo mondiale di Formula 1. Nel giorno di San Valentino la scuderia del Cavallino ha mostrato al popolo ferrarista di tutto il mondo quella che sarà la macchina del futuro. La macchina su cui sono riposte le speranze di lotta per il titolo. All'evento erano presenti due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz. La nuova Ferrari SF23 dopo la presentazione è stata portata in pista da Leclerc. Non vedo l'ora di tornare in macchina sperando di vincere il campionato. Il nostro obiettivo, ha detto Leclerc, è vincere. Il nostro obiettivo, ha detto Leclerc, è vincere.